Noi vogliamo dire un grande grazie, straordinario grazie a Benny Benassi che oggi è a Venezia e ci aiuterà a comunicare la bellezza nel mondo. Chi insomma ha avuto modo di ballare con le sue canzoni ha un legame particolare con lui e con le sue grandissime creazioni ed è bello averlo qui oggi, ci aiuterà a essere ambasciatori di Venezia nel mondo. Grazie, siamo a Venezia, è incredibile, avrò l'onore di suonare dalla terrazza del Guggenheim Museum. Ciao, grazie mille.